Ciao ragazzi, il video di oggi riguarderà le unghie. Volevo applicarmi le unghie finte, è un po' di tempo che me le sto mangiando senza sosta, sarà il periodo magari un po' di ansia così, e allora volevo mettermi le unghie finte perché per me sono un'ottima cura contro appunto l'onicofagia. Anche se poi comunque si indeboliscono, però insomma mi evitano di metterle in bocca ogni 3x2 quando guardo un film o quando sono un po' in ansia ultimamente, ma chi non lo è in questo periodo? Allora avevo già fatto un video dove vi mostravo come le applicavo e le toglievo qualche anno fa e quindi volevo rifarlo, però questa volta volevo oltre applicare le unghie finte volevo anche applicare sopra gli adesivi, questi sono adesivi che ho preso a inizio anno credo da Amazon. Avevo provato a applicarli anche sulle unghie normali ma non c'erano riuscite. Vediamo se sulle unghie finte mi va meglio. Ci sono bei colorini, adesso qua praticamente sono quelli che avevo provato e quindi mancano e non li useremo, quelli viola, naturalmente io ero andata subito sui viola. Poi c'è questi verdi bianchi, rosa, qui anche ne manca qualcuno quindi lo scartiamo, verde, c'è anche qui del viola. Siamo in periodo natalizio, natalizio per esempio ne manca una, era carino questo, vabbè, potrebbero andare bene queste, rosse con le cosine dorate, poi mi piacciono molto anche queste, con questi luna, luna, sì, sole, qualche stella e poi abbiamo queste qua rosse che sono ancora più brillanti di quelle di prima, dato che poi rosa no, rosa no. Poi c'ho un altro rosa qua, un altro rosa qua, però no. Quindi io adesso vediamo starei, anche queste verdi mi piacciono così, però io vorrei stare un po' più su qualcosa di festivo, tipo questo. Poi sempre da Amazon avevo preso tempo fa per farle stile natalizio, queste, ma io avevo letto che erano adesivi, in realtà sono decalcomanie, e questa cosa insomma non è che mi faccia impazzire, però sono davvero carine, e dovrei provare, vorrei provare anche le decalcomanie come sono. Le istruzioni le ho trovate su Amazon, non c'erano neanche allegate al pacchettino, quindi insomma, beh, queste con gli alberi di Natale, però insomma dai, Natale adesso è passato, mi butto sull'ultimo dell'anno, anche se insomma non vado da nessuna parte, però lo faccio soprattutto insomma perché voglio evitare di continuare a mangiarle, però sono davvero carine, peccato non siano adesive, ma sono, vabbè, magari qualcuna la faremo anche con, proverò anche a farla, un'unghia magari così, non applicarla, ma a farla su unghia così sciolta, proveremo una decalcomania, vediamo come sono. Così magari un'altra volta lo facciamo assieme. Poi unghie, ho preso sempre da Amazon queste, l'Elegant Touch London, e sono in versione, queste qua, non tanto lunghe, come piace a me, la versione che piace a me, andiamo a vedere dentro quante ce ne sono, ho rotto tutto, sono 12 forme, 48 unghie, credo ve le pagate sui 10 euro, c'è sempre la colla, non mettono, non mettono la, non mettono la lima, che di solito mettono, comunque questa è la colletta, sempre Elegant Touch, che dovrebbe esserci anche delle, non so se fanno anche le ciglia, sono molto carine, vediamo più o meno la lunghezza, la lunghezza è giusta, proprio giusta, giusta, beh, comode, che non vanno a rompere le scatole da nessuna parte, ci sono varie misure, queste mi piacciono. Poi le mie amate Kiss ho preso, queste sono in versione stiletto, e le Kiss dovrebbero avere, sono 28 unghie queste, diciamo che le più convenienti sono queste, perché sono 48, quindi se ne possono mettere per 4 volte, diciamo, qui c'è sempre la nostra colla, e Kiss mette anche la lima, sotto mette la lima e il bastoncino per le cuticole. Queste sono già un po' più lunghette, eh, guardate, davvero, davvero lunghe, e per me sono difficili da mettere, non so neanche perché le ho prese, perché sinceramente pensavo che fossero uguali a queste che avevo preso in negozio, forse, tempo fa, vedete che però hanno la punta leggermente più arrotondata, queste, erano infatti queste, sono quelle che volevo andare a mettere, non troppo corte, non troppo lunghe, perché tanto adesso sono a casa dal lavoro, quindi non ho problemi di manualità, riuscirei anche a gestirle. Queste qua, prese sempre su Amazon, vengono 12 euro, ma sono fantastiche perché queste sono proprio naturalissime, sembrano proprio delle unghie vere, insomma, quelle con la ricostruzione, fatte dall'estetista, e sono in acrilico, quindi sono bellissime queste qua. La durata delle unghie finte dipende sempre da che colla si mette sotto e da che lavori si fanno, insomma, di solito una settimana, durano una settimana lavando i piatti, facendo le solite domenze, le faccende domestiche, cose così, una settimana durano. Poi mi sono presa sempre da Amazon la colla Kiss, che è ottimissima, veramente molto buona, quindi io direi, non so, di partire con l'abbellimento delle mie unghiette. Io le avevo già sistemate, abbiamo qua i due pollici, solo che non si vede bene perché non ci abbiamo, vediamo se mettiamo sotto a questo. Si vederà meglio adesso. Due pollici. Sono dieci unghiette pronte, ok? Quindi io intanto andrei ad attaccare prima gli adesivi, ovviamente, poi dopo faremo anche magari uno con la decalcomania, eh, con altre unghie con la decalcomania perché ne ho anche lì nel cassetto, unghie qua, le ho già rotta una, siamo a posto. Allora, i pollicioni sono quelli più grandi, ovviamente, e spero di non fare danni da subito là. Questa qua, non so quanto durano queste tipo di decorazioni, perché io di solito ci mettevo lo smalto, qua ho già attaccato male, molto bene. Si attacca dappertutto. Andrà così, così credo, dai. E bisogna coprirla tutta, ovviamente. Cosa che già ho sbagliato. E abbiamo qui con noi, naturalmente, il curiosone. Il curiosone di turno. Praticamente questa sarebbe l'unghia, no? Insomma. E andrebbe poi limata, le cose che avanzano, cioè il... Quello che avanza andrebbe limato, credo, no? Ma non viene via niente. Fantastico. Quindi andrebbe probabilmente forse tagliata. Vediamo che una forbicina di tagliare quello che c'è in più. Quello che c'è in più. Vabbè. Somma. Insomma. Insomma. Somma. Bisogna. confidentialìa. Vabbè. Sì. 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 C'è. Ci tiene... ok anche se qua non mi ha coperto tutto mi ha lasciato un po' di e questa sarebbe l'unghia poi vabbè andrò a sistemare questi residui di adesivo naturalmente si accettano consigli su come fare meglio questa lavorazione che sinceramente non mi sta facendo impazzire perché sono adesivi un po' grandi ovviamente e l'unghia mi risulta un po' ok dai questa è fatta andiamo con l'altro pollicione vediamo se va meglio vediamo se va meglio Tino bisogna stare proprio in centro ma comunque non mi copre tutta l'unghia cioè tiro eh magari tirando ecco già questa va meglio mi sembra allora io qua non la piegherei neanche sotto taglio direttamente taglio direttamente quello che è in più così e stop no ecco già fatto va la prima è andata insomma bisogna prenderci un po' di mano insomma il primo pollicione non è venuto bene però dai il secondo aspettatino che sono tutti gli adesivi il secondo non mi sembra malaccio anche se poi andrò a sistemare grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non voglio attaccare queste qua tipo, queste qua così con i babbi natali, vediamo, qualcosa di completo, questo con gli alberi no, perché insomma questo con i babbi natali no, vediamo. Queste non mi piacciono, queste abbiamo già detto di no, queste con i babbi natali, volevo qualcosa di più, cioè li applicherei se fosse diciamo ancora da arrivare Natale, ma anche queste qua sono carine, anche queste qua mi piacciono. Più invernali dai, anche queste, queste sono un po' più natalizie, queste con i paesaggi anche sono molto belle, i paesaggi nevati, i pupazzotti, poi ci sono anche queste qua molto carine, ci sono anche queste con le palline di Natale, ma forse starei su queste. Allora leggevo le istruzioni che praticamente va fatto così, intanto va tolta la pellicola sopra, che è questa, poi va tagliato, va tagliato insomma la forma, qua ho degli adesivi attaccati, delle altre unghie, va tagliata insomma la forma della nostra unghietta, così. Qui praticamente all'ora nell'unghia non serve lo smalto, perché non andiamo ad attaccare questi che sono dei particolari, ma andiamo ad attaccare proprio una cosa tutta unghia, ecco. Ok, facciamo questo, poi andiamo su queste, che mi sembra che sono quelle che vanno meglio come misura. Tipo questa sarebbe sicuramente il pollice. Credo che vada messa così, sì. E ci dovrebbe stare, secondo me non la copre tutta l'unghia, secondo me no. Secondo me non la copre, questa è enorme. Poi ci sono tutte le varie misure, guardavo se c'era... Ma sono grandi, quelle dei pollici sono grandi, cioè come fa a coprire il pollice lì? Vabbè, al limite ci si può mettere un po' di... Pare uno sfondo e... Ma io non c'ho voglia di fare sfondi adesso. Allora, si prende dell'acqua, una pinzetta di quelle per le sopracciglia, si dovrebbe fare così. Si mette questo dentro nell'acqua. Così. Se non sbaglio. Si dovrebbe levare, sì. La cartina sotto. Mamma mia che fatica. Là. E poi si applica sull'unghia questo. In questo modo, quello che cede. Ok. Poi va limato. Dove in più. Ok. E questo sarebbe il mio pollice. Per mettere appunto le unghie finte andiamo a usare lo spingi cuticole. Io utilizzo questo. Che è quello che è in dotazione. Bene qua. Adesso vado a limare leggermente la mia unghia. in modo che la colla si aggrappera bene. Ecco, una cosa leggera. giusto per opacizzarle un po'. Poi andrebbero, vanno pulite. Io non ho neanche più la spazzolina. Non la trovo più. Avevo la spazzolina, insomma. Va tolta la polverina. Così. Avevo la spazzolina appunto per togliere tutte. La polverina e tutto quanto. Solo che adesso non la trovo più. Vabbè. Vado a utilizzare la mia colla Kiss. Perché so che è ottima. Anche se preferisco ne ho un'altra che ha il pennellino. È molto più comodo. Vediamo se questa qua è col pennellino. No, non ha il pennellino. Va bene. Andiamo ad applicare quindi le unghie. Mettiamo un po' di colla sull'unghia. Tengo premuto un po'. Insomma, 10 secondi, 15 secondi. Ecco. Dopo andiamo a sistemarle. Qui è l'adesivo che si è messo male. Sembra rotta ma è l'adesivo che si è messo male. Questa è la prima. Andiamo con la seconda. Sono davvero lunghissime. Io sicuramente le accorcerò. Perché se no non ci riesco. Ecco. Spargo la colla bene su tutta l'unghia. Deve essere tutta l'unghia bella impregnata di colla. E andiamo a mettere l'indice. E andiamo a metterelliti. sono davvero davvero troppo lunghe per i miei gusti infatti dopo andrò a sistemarle perché io non riesco a gestire una lunghe così sono troppo lunghe veramente anche se non sembravano così dal quando applicavo gli adesivi comunque andrò a limarle bene finché non avrò ottenuto la misura che mi interessa questo insomma vale per tutti ecco ovviamente ognuno mette le unghie poi dopo se le sistema adesso vado a togliere un po di imperfezioni intanto così perché c'era ancora un po di adesivo che sbordava dall'unghia però insomma è bello viene fuori una bella una bella cosina adesso vediamo quanto dureranno questi adesivi che adesso andrò a proteggere con un top coat ovviamente perché lavando i piatti facendo insomma qualche piccola faccenda ovviamente beh se fossi a lavorare non durerebbero nulla perché con il lavoro che faccio io è praticamente impossibile anche portare le unghie in questo modo adesso andiamo a mettere lo smalto sì volevo mettere l'olio per le cuticole ma aspetto un attimo perché vado a metterlo proprio alla fine insomma e vado a mettere un goccino di di smalto così per proteggere ok adesso aspetto che si asciughino nel frattempo sicuramente qualcuno mi chiederà come faccio a toglierle ho già detto la durata della colla sotto le unghie durano circa una settimana se voi dovete soltanto utilizzare le unghie finte per una sera insomma lo sconsiglio anche se ci sono comunque dei metodi per toglierle che sono tipo non so metterle nell'acqua calda tenere a bagno le unghie nell'acqua calda questo facilita insomma lo scollamento ecco e oppure potete inserirle dentro all'acetone quello che utilizzate per togliere lo smalto sapete quelli con la spugnetta da immersione inserite dentro il dito lasciate lì un po e l'acetone comunque serve anche quello per per consumare l'unghia però non è non è facilissimo toglierle dopo un giorno è non è così facile quindi di solito insomma la durata è una settimana dopo una settimana naturalmente una alla volta due alla volta tre alla volta se si staccano senza problemi e lì basta rilimare un'altra volta la colla e si possono riapplicare io di solito faccio anche dei tempi insomma di pausa ovviamente adesso era tanto tanto tempo che non le rimettevo gli ho rimesso insomma per queste festività qui si vede che è più scuro perché c'è il doppio adesivo invece ce n'è uno solo che poi tutto sommato non si vede neanche tanto il bianco non so perché l'ho applicato anche lì vabbè questo è il risultato vedete qua che non ha coperto bene è rimasto un po del insomma dell'unghia naturale sotto si vede però non importa perché tanto insomma è trasparente ecco si è già asciugato lo smalto guardate è già asciutto è velocissimo sto smalto astra ultra brillante però non è uno di quelli rapidi probabilmente sopra all'adesivo si asciuga molto sempre molto velocemente andiamo a mettere un po di olio si attacca tutto olio per le cuticole di questo al olio d'arancio applicato l'olio poi si va un po a spargere così no poi mi saprete dire voi naturalmente adesso vado a limarle perché sono davvero davvero troppo lunghe per i miei gusti non riesco a fare niente io vi mando un grosso bacio e buone buon ultimo dell'anno queste unghie vi mando un grosso bacio ci sentiamo alla prossima ciao ciao